Salve a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max, torniamo a parlare di uomini e donne, torniamo a parlare soprattutto di Isabella Ricci che torna a farsi sentire dopo un bel po' di stop. Non si sentiva parlare di lei da qualche mese già. L'ex protagonista, amata moltissimo dal pubblico, è nuovamente su Instagram con una notizia veramente top. Tanti lo sospettavano, quindi tanto si aspettavano già qualcosa del genere e tanti invece iniziavano a pensarci ma non ci volevano assolutamente credere. Poi invece c'è chi ipotizzava problemi di salute, vista questa grande assenza prolungata e strana da parte della dama che da quando ha partecipato al programma, diciamo che aggiornava quasi tutti i giorni il pubblico social. E poi, dopo tante ipotesi, è arrivato finalmente un post. Poche righe in cui Isabella Ricci spiega cosa è successo in questo periodo con Fabio Mantovani, l'uomo conosciuto negli studi di Maria De Filippi e poi sposato. Dopo tanti rumor che volevano la coppia sempre più lontani, è arrivato l'annuncio ufficiale. È finita. Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero, ha scritto l'ex volto del dating show su Instagram e reso così nota la separazione dal marito. Il motivo della rottura, però, non è dato da sapere. Isabella Ricci non è entrata nel merito delle ragioni che hanno contribuito ad allontanarla dall'ex cavaliere ed ex marito ma certamente quella frase, quando è troppo bello per essere vero, non è vero, lascia presagire una certa delusione. Come se la tempesta fosse arrivata all'improvviso. Chiaramente questo post ha scatenato i fan dell'ex UED. Subito moltissimi i commenti per saperne di più, per capire cosa sia successo alla coppia per cui avevano tanto tifato ai tempi del programma. Da lei, però, nessuna risposta alla curiosità del pubblico. Numerosi anche i messaggi di supporto e vicinanza e i complimenti per il modo e la riservatezza con cui ha gestito il tutto. Isabella Ricci e Fabio Mantovani avevano abbandonato insieme la trasmissione a fine 2021. Meno di sei mesi dopo le nozze con Rito Civile e poi il trasferimento a Dubai, dove avevano deciso di vivere metà anno, il tutto sempre con la partecipazione dei fan, che vedevano spesso foto e storie della coppia. Da due mesi circa, però, più niente. Fino a oggi, con l'annuncio ufficiale della rottura. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.